ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video come promesso come avete capito anche dal titolo un video della recensione sulla marathon su questa fresa di passioni unghie quando avevo fatto spacchettamento di passioni unghie dell'acquistica avevo fatto che ho preso con la fresa la fresa e 3 gel color solo vi ho detto che appena comunque l'adoperavo vi facevo sapere insomma vi facevo una recensione vi facevo sapere come ci sono trovata eccetera 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 e se sentite urlare mio figlio che sta giocando con la prestation comunque bene e parla insieme gli amichetti sui tramite dei cuffie va comunque non mi interessa però intanto vi ho fatto capire queste urla che sentite tranquilli a mio fiolo che sta giocando e allora le unghie le ho fatte le sono fatte così adesso non le vedete le vedete così ho fatto una lo fate più corte e lo fate molto più corte e ho fatto optical silver allora voi lo vedete argento ma non è argento c'è argento ma con micro pillantina all'interno quindi c'è tutti i arcobaleni adesso vi faccio vedere meglio facendo la rampa ecco vedete è già diverso intercamera non rende tanto ecco cosomai quinta il pollice vedete è così praticamente ho fatto questo qui ho fatto refill che poi ho fatto anche una diretta su instagram mentre mettevo il colore vabbè comunque e quindi l'ho provata su me stessa allora prima di parlarvi della fresa quando voi l'acquistate perché la vuole acquistate vi arriva anche questi foglietti c'è questo qui il primo foglio che dice attenzione inserimento della punta dice come rimuovere la punta come inserirla eccetera eccetera e infatti qua sotto vedete vi da vi da praticamente questa questa punta lunga col gommino infatti il gommino vedete cielo qua adesso perché la uso con questa punta qui quando devo fare il refill e il gommino serve per non fare entrare la polvere nel bocchetto diciamo qua della fresa che poi alla fine comunque entra un pochino entra allo stesso la polvere e bisogna metterla un millimetro fate qui c'è scritto un millimetro di distanza tra la punta tra qui lo spazio tra c'è tra la punta qua insomma tra la punta qui un millimetro qui e tra la fresa qua insomma praticamente del manipolo quindi vi viene questa qui fa vedere la rotazione sia a sinistra che a destra come per girarla per aprire la fresa per inserire la punta sia per chiuderla dopo che avete inserito la punta poi parte questo io non so se a me la garanzia mi è arrivata se qualcuno di voi comunque l'ha acquistata la maraton su passione unghie la champion 3 se mi faccia sapere se la garanzia è questa non lo so se questa qui la garanzia mi è arrivati solo questi tre fogli quindi qui non c'è niente non lo so mi è arrivati questi tre questi fogli qui e quindi non so se questo è la garanzia boh spero perché sono solo questi fogli qua questo qui che vi ho fatto vedere praticamente adesso della punta e libretto di istruzione quindi fatemi sapere se il foglio che vi ho fatto vedere adesso come si dice è la garanzia poi questo qui è libretto di istruzioni che vi consiglio di leggerlo approfonditamente perché comunque serve infatti ho dato una letta visto tutti i punti qua come funzionava più o meno poi visto anche qualche video su youtube quindi mi ha aiutato quindi queste qui sono tutte le istruzioni praticamente qui fa vedere il dentro della fresa del manipolo praticamente eccetera eccetera ok quindi mi raccomando leggetela attettamente allora questa qui è la maraton io spero che comunque così vediate bene la luce oppure volete che accendo non lo so cosa mai accendo un pochino così va vedete un po meglio e allora quando acquistate la fresa la maraton io vi dico che già costa 144 e 90 credo insomma sui 145 euro su possioni unghie in offerta se no costa 180 e quando vi arriva vi arriva anche con adesso non ce l'ho portata di mano con il pedale il pedalino però io non lo uso quindi niente vi arriva poi imballato con questo bicchierino qua lo chiamo bicchiere che questo qui cosa serve serve che quando voi avete finito di usare la fresa che non l'adoperate più c'è il manipolo lo mettete qua così e sta così appoggiato il mio ed è traverso non so se sta proprio così o deve sta dritto ma ce l'ho per sbiego quindi lo devo mettere per forza così perché questa parte qui è storta non è dritta quindi mi sta per sbiego poi vi arriva comunque con questo qui di gomma che porta manipolo che così quando voi mentre state adoperando la fresa cosa fate prendete il manipolo appoggiate qua un attimo e poi lo riprendete in più quando vi arriva la fresa non vi arriva le punte queste sono le mie punte compresa di questa quindi non vedo in omaggio le punte le punte poi le dovete voi acquistare a parte e io queste punte qua ne ho una due tre quattro che sono per la dry manicure questa per fare il refi volendo anche questa ma questa non la uso e prima vi stavo dicendo che vi arrivava con aspettate un attimo si lì c'è la mia cagnolina vi arriva praticamente con questa punta qua questa ve la danno apposta perché così quando non dovete adoperare la fresa che si è stato defermo oppure che non dovete fare unghie niente quando sta così praticamente appoggiata e tranquilla riposo voi mettete quel laghetto lì quella punta lì finta tra virgolette diciamo perché la fresa deve stare aperta vedete c'è aperta nel senso che comunque l'aperta qua c'è ho girato questo dopo comunque faccio vedere come si fa e ho messo la punta perché dicono che se te non lasci nessuna punta inserita col passare del tempo c'è il rischio che non ti si apre più buono lo so quello non ci ho capito tanto comunque quindi vi consiglio di tenere sempre una punta comunque attaccata poi comunque tanto la fresa è spenta quindi non c'è rischio non c'è pericolo di niente lo metto qui questo meno vedete meglio poi cos'altro dirvi va bene questo qui praticamente è per rotare praticamente qui c'è andata un po' di polverina va beh dopo la pulisco meglio per rotare il quanto vuoi che vada alla fresa no se va tanto minimo massimo allora io arrivo fino a una certa come già avevo detto anche l'altra volta l'ho provata fino a qui per fare refill per la dry manicure arrivo una roba tipo così o così una roba del genere qua su mai perché è veramente troppo 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 poi questo qui l'accensione off e on poi qui abbiamo sinistra e destra per chi è mancini per chi so destra insomma qua dietro invece c'è sta lo stesso interruttore che questo persona puntano lo stesso interruttore che questo qui che è uguale a questo sinistra e destra per il pedale questa qui l'attaccatura poi dove c'è va il filo attaccato per il pedale però comunque io non lo uso e allora intanto vi faccio vedere come funziona la fresa per anzi no lo facciamo una cosa siccome do prendere il cavalletto che sto con la mano non riesco adesso vi parlo come mi ci sono trovata e tutto quindi faccio la recensione adesso vi ho fatto vedere più o meno come come è fatta la marathon eccetera eccetera poi questo qui quando accendete vedete deve essere sempre verde ovviamente e niente vi stavo dicendo questo qui deve rimanere sempre acceso ovviamente quando è accesa la fresa insomma allora io l'ho provata su di me e sinceramente devo dirvi che è una bomba veramente non vi brucia nel dito nel senso che non si sorriscalda per niente poi è fatto apposta questo qui che è leggermente aperto vedete qua infatti quindi la dopo lo sento finire fuori l'aria per non fare sorriscaldare dentro il motore diciamo quindi è proprio una bomba è fatta apposta quindi non vi preoccupate che quando arriverà la fresa cioè quando vi arriverà la fresa che la vedete vedete qui più chiuso qua più aperto non vi preoccupate è fatta apposta per far fuori uscire l'aria per non far sorriscaldare ripeto il motore eccetera eccetera è fatto proprio apposta e vi dico è una bomba mi ci sono trovata benissimo non sorriscalda infatti per niente non vibra per niente infatti con la mia vecchia quando dovevo fare praticamente RF sulle mie unghie a parte non è che mi lasciava bene mi feceva tutte bozzette tipo perché comunque mi stava partendo e poi comunque una certa dopo un po' bruciava invece questa niente è proprio zero non brucia non sorriscalda niente che dirvi è proprio una bomba qua scusate intanto ho messo anche vedete anche in altra prospettiva ho messo già anche il cavalletto che così comunque vi faccio vedere meglio questo qui è tutto il blocco che comunque questo pesa abbastanza comunque ok dove era arrivata non mi ricordo ah sì del fatto che comunque non sorriscalda nell'unghia quindi non brucia eccetera eccetera io mi sono trovata veramente che è una meraviglia ragazzi questa fresa quindi ve la straconsiglio proprio al massimo allora adesso vi faccio vedere come funziona allora praticamente se girate voi non tenete mai per qua che questo c'è rischio che un po' si muove ovvio ovviamente quindi prendetelo sempre per qui il manipolo e poi fate così no così perde qua perde qua vedete esce fuori la punta e vedete qua che sta tutto in fuori invece si chiudo guardate entra dentro vedete e scusate un attimo va bene se dopo questa partita andiamo in piazza sì dai chiudi la porta scusatemi stavo facendo il video è entrato mio figlio e vedete vi stavo dicendo che così è chiuso e per aprirlo girate quindi per de qua lo aprite e infilate e infilate la punta scusatemi io con il spiegamme non so tanto portata e poi de qua chiudete infatti vedete che non esce più fuori quindi funziona così vi faccio sentire un attimo il rumore vi faccio vedere anche fino a dove arrivo sentite io arrivo fino a qui per fare il refill fino a qua vedete e per la dry manicure arriverò tipo fino così o anche de meno più o meno quindi questo è il rumore che fa però qua su pare troppo sentite già quindi io il refill faccio fino a qui poi per spegnela fate così e poi spegnete e la rimettete a posto insomma ecco allora poi vi volevo dire un'altra cosa allora per quanto riguarda la marathon vi ripeto è ottima mi piace veramente tanto e vale tutti i soldi spesi sinceramente vale tutti i soldi spesi e a me mi piace veramente tanto almeno per adesso sperando che non mi andrà più problemi in futuro ma perché me li dovrebbe dare credo di no mi ci trovo tanto bene ripeto non si scalda per niente per aprire il manipolo per mettere la la punta è facilissimo sia per chiuderlo anche e poi che dirvi niente ripeto per chi so mancini ovviamente mettene il bottone qua su F credo e R dovrebbe essere per il destro infatti quando faccio su de me il refill sulla mano sinistra che dopo la destra metto su R che sarebbe destra questo qua invece quando devo fare praticamente la sinistra faccio F la metto qui e quindi cambio cambia il giro praticamente gira la punta lo so comunque ok ripeto non si riscalda per niente e poi un'altra cosa non brucia leva il gel che è una meraviglia cioè io l'ho dovuto provare per forza su di me perché quando io infatti vi ho detto già anche il video che ho fatto lo spaccatamento passione unghie vi dicevo non so quando lo farò la recensione ma l'ho voluta provare subito perché non ce la facevo più io si ho fatto così le devo provare subito le cose e ho cominciato col mignolo vabbè appena ho fatto così appena con la fresa praticamente fai cusci già praticamente te leva tutto il colore cioè è proprio una bomba e vi riduce veramente i tempi di lavorazione veramente ragazze perché è spettacolare con quell'altra ci mettevo di più con questa invece poi dopo dipende anche che punte avete comunque se sono ottime o non sono ottime dipende anche da quello però con una fresa così potente credo che comunque anche con una punta un po' così dovrebbe andare bene insomma dopo vi devo dare una botta perché ho finito oggi a farmi le unghie non c'è un po' di polverina e ripeto leva il colore che è una meraviglia proprio un secondo fai cusci fai una passata con la punta con la fresa ed è già il colore va via cioè non devi stare lì appena a star a schia praticamente diciamo e quindi il colore va via proprio che è una meraviglia allora poi un'altra cosa volevo dire io ho messo la foto che ho acquistato la marathon sul scusatemi su facebook sul gruppo loro di facebook Passione Unghoff ciò si chiama se non erro mi pare sì ho messo la foto e ho scritto il link dove ho scritto appena acquistata e c'è appena arrivata insomma acquistata a Mart non vedo l'ora di usarle e ho detto per chi ce l'hanno mi scrivesse come ci si è trovata allora la maggior parte delle persone mi hanno detto che ce l'hanno da anni e non gli è andato nessunissimo problema va che è una bomba non hanno scontrato nessun difetto eccetera eccetera tante persone alcune persone invece si è bruciato il manipolo il manipolo dentro il motore altre per esempio una pure ha mandato un video che praticamente tira su qui che il volume c'è e sta tirandolo su che va sul più forte diciamo ah ecco sto volume non è una musica non è uno stereo la velocità ecco diciamo della fresa andando più su ovviamente aumenta andando più giù diminuisce lei invece aumentandola e si diminuiva l'inter la fresa qua che è il manipolo e invece diminuendola e si alzava e faceva il contrario e altri ragazzi dopo l'hanno portato vabbè all'assistenza eccetera eccetera e quindi non so cosa dirvi però per me io come ci sono trovata adè io ho riscontrato varie come si dice varie recensioni positive e varie recensioni negative non ho riscontrato più positive però sinceramente nessuno ha che ha avuto mai problema di questa fresa ripeto ce l'hanno avuta da tanti anni non hanno mai riscontrato nessunissimo problema e a posto e altri invece me le hai detto ecco del fatto del manipolo del fatto qua della velocità hanno riscontrato un po' dei problemi però insomma io vedo come va sta macchinetta vediamo un po' io per adesso me ci sto trovando bene lo so l'ho usata una volta sola l'ho usata oggi per farmi le unghie però io ho detto che appena la usavo comunque che era una volta sola e me basta una volta sola per farvi una recensione per sapere come ci sono trovata e quindi l'ho fatto e vi ripeto mi ci sono trovata molto molto bene ripeto che comunque acquistando la fresa non vi danno le punte le punte le dovete acquistare a parte questo ecco lo poggiate qui quando state lavorando se andate me la dovete posare mi raccomando mettete vi sto dicendo le ultime cose poi ho finito che tanto altre cose non ho da dirvi mettete la punta quella che vi danno in dotazione non fate come me che l'ho buttata via come una scema quindi ci ho messo qui soltanto questo non lo uso è difficile che lo uso lo usavo infatti un po' consumato ma di poco per non lasciare la fresa ecco chiusa diciamo proprio del tutto che dopo c'è il rischio che si bloccano questo non l'ho capito sinceramente quindi non vi voglio dire bugie o cavolate però si dovrebbe bloccare non vi dovrebbe far tirare più le punte boh non so un cacchio una roba del genere poi quando sta in pausa ovviamente la fresa che avete finito è lavoro infatti la lascio così quando non devo lavorare niente e niente cos'altro dirvi questa è il quanto insomma di questa fresa poi comunque le istruzioni quando vi arriverà le leggerete anche voi come ho fatto io mi raccomando leggetele che è sempre importante così capite meglio e niente io spero che questa recensione di questa fresa marathon champion 3 si chiama di passione unghie vi sia stata utile per i vostri acquisti se la volete acquistare oppure no poi vedete voi che comunque costa 144 euro se avete una fresa comunque che è buona che già ce l'avete che è buonina che comunque non vi dà nessun problema non vi ste spendi i soldi dopo ognuno con i soldi loro fa come vi pare io non voglio fare in tasca a nessuno però se ce l'avete è inutile andare a spendere i soldi per un'altra fresa se ce l'avete è già una che va bene che è buona e funziona bene funzionante dopo se vedete se se rompe dopo decidete se prendere questa oppure un altro tipo di fresa dopo quello è a persone a gusti che vedete voi intanto purtroppo questo è come fosse che vai in appuntamento al buio perché anche leggi le recensioni ma qualsiasi tipo di strumento come potrebbe essere una fresa come potrebbe essere la lampada come può essere l'aspiratore come può essere il cazzi ammazzi il gel e tutto bisogna provare le cose per sapere com'è lo so tira il culo se si andrà male perché comunque questa è costata 144 euro per carità in offerta invece di 180 però è rischio pericolo tuo io l'ho presa sapendo che ci potevo essere cioè sapendo che ho letto recensioni negative positive però comunque l'ho voluta acquistare anche perché la fresa mia mi era partita cioè mi stava a partire proprio mi partiva proprio mi slittava un bel po' mi faceva le bozze in casino e quindi l'ho dovuta acquistare ho acquistato questa ormai sapete che il mio sito dove acquisto le cose delle unghie è solo passione e unghie non ce la faccio più acquistare da altre parti perché mi trovo troppo bene con passione e unghie può essere che qualcosina accosterò anche fuori di passione e unghie che ne so però per adesso passione e unghie e quindi niente riportate che state leggero questo pesa ma poco poco come qua scusate questo pesa ma manco tanto cioè un po' pesucchia ma cioè se la fa fa ref insomma e non sto ricordando se devo dire qualche altra cosa ma mi pare del gommino questo qui praticamente lo mettete adesso ve lo faccio vedere un attimo aspettate che levo lo mettete praticamente così no è troppo vedete deve stare a un centimetro dalla punta quindi un centimetro un millimetro come è che c'è scritto scusate un millimetro quindi più o meno così vedete dalla punta qua così e poi nella fresa non deve da tutta giù vedete non ci piaccia che va tutto giù ma un millimetro vedete lo dovete vedere da là sotto praticamente più o meno una roba del genere e poi bloccate e fate il lavoro che dovete fare per non fare andare la polvere un po' ce va lo stesso non è che non ce va proprio per niente però già è qualcosa quindi nel senso la chiudo posto perfetto e niente io ripeto spero che comunque questo video vi sia stato utile per il vostro acquisto cioè per il vostro acquisto della fresa marato champion 3 di passione unghie sempre se la volete acquistare o per chi è indeciso se la vuole acquistare o meno ha visto questa piccola recensione mia che ho fatto e ve ne ho parlato e ripeto io invece sono trovata che è una meraviglia e per me non vi stancherete mai di questa fresa ve lo ripeto perché vi giuro l'ho provata appena ho fatto così già il colore era andato via c'è un due testarie perde tempo quindi diminuisce anche molto i tempi di lavorazione di lavoro e niente mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto sotto il video commentatemi fatemi sapere se alcuni di voi ce l'hanno come ci si sono trovate se bene o male dato io immagino che qualcuno mi dirà male perché tanto io ho letto anche ripeto qualche altra qualche altro commento cioè metà metà 50-50 pare 50 io va bene 50 io va male che cacchio vi devo dire ragazze non lo so io spero che me va bene incrocio le dita lo spero tanto che me dura tanto e che dirvi questo quindi comunque fatemi sapere lo stesso sotto i commenti che voglio sapere per chi ha la marathon c'è più 3 di passione unghia voglio sapere sotto nei commenti sotto c'è questo video come vi ci siete trovate bene o male e anche da quanto tempo ce l'avete quanti anni quanti mesi non lo so e fatemi sapere e fatemi sapere se è quelle lì che invece mi rispondono in modo negativo che non è andata bene la fresa e il motivo per qual era almeno già io mi posso fare l'idea tante volte se capita a me so di quale motivo può essere se è del del manipolo della fresa dentro che cacchio ne so tante cose di questo tante cose insomma e niente mettete i pollici su io vi mando un enorme bacio e niente ci vediamo presto al prossimo video ciao